La vittoria contro il Taranto può essere considerata la vittoria della svolta, la tanto attesa svolta per la Fidelis? Sì, la vittoria era una cosa fondamentale, quindi dobbiamo e vogliamo fare di più, quindi deve essere un punto di partenza questo e ci deve portare ad avere questi risultati in tutte le partite che giocheremo da qui alla fine del campionato. Questa vittoria è servita anche per scrollarvi di dosso un po' di paura che si era accumulata nell'ultimo periodo? Sì, quando non fai punti vuoi o non vuoi queste paure te le crei, quindi questa vittoria, ripeto, come ho detto prima, deve essere un punto di partenza, quindi dobbiamo fare di più e vogliamo fare di più. Questa gara con il Taranto ha certificato anche un Gaeta Goliador? Goliador è un parolone, però sicuramente fa piacere segnare, soprattutto quando lo fai davanti ai tuoi tifosi, e quindi speriamo che ce ne saranno altri. Sicuramente questa nuova posizione che occupi in campo ti porta ad essere più vicino alla porta, quindi magari qualche golletto in più potrebbe uscire. Sì, assolutamente, è una posizione che puoi creare tanto, puoi dare una mano alla squadra, quindi speriamo di essere determinanti da qui alla fine del campionato. Domenica c'è la Turris, altro osso duro non da poco, però da qui in avanti bisogna fare quanti più punti possibili per la salvezza. Sì, andiamo lì con l'intenzione di vincerla, di fare una grande partita soprattutto, quindi dobbiamo e abbiamo voglia di far vedere le nostre qualità un po' a tutti.